Ciao ragazzi, benvenuti qui sul canale oggi vediamo il 2023 qui in review perchè c'è il YouTube Buddy grazie a tutti per questo X-Man the Apple Show, click to start prima, torniamo 1 genuario abbiamo cominciato con 9000 3,800,000 i miei sono i 3 migliori però ho scelto perchè ho scelto per cui ho scelto il algoritmo è diverso quindi ho scelto il più successo sono Bruce Lee e Van Damme ora abbiamo questo anno abbiamo 16K subito abbiamo 16k subito 7000 subito 5200 4200 2 milioni e abbiamo 2,500 1,600 4,000 2,500 12,000 12,000 13,000 19,000 12,000 watch our YouTube so we gain from you see 2022 wow 300% subscriber in 2022 we have 1086 thousands subscriber and we have 500,000 views invece this year almost 2,000,000 views and also we upload more views more videos perché nel 2022 abbiamo iniziato a vloggare perché stavamo ancora in Cyprus ma questo anno vedete come il canale cresce 300% quindi grazie mille, non ci siamo qui per aver guardato, guardato, commentato e ti dice anche oggi, questo, dal Giappone beh, mi riuscite e ti dice che siamo i migliori per te non lo so, siamo persone normale che ci mettiamo molto in questo stupido quindi grazie molto dal mio piccolo lavoro vediamo al prossimo video, ciao!